Per il piacere di vivere a casa, non aspettare l'emergenza, chiama tendenza Ciao a tutti, oggi vediamo cosa sono le pergotende e come potete utilizzarle a casa vostra. Le pergotende sono delle strutture dotate di telo protettivo in PVC retraibile. Sono generalmente realizzate in alluminio e questo consente di creare delle strutture leggere e dalle ampiezze importanti. Si può arrivare anche ai 14 metri di larghezza per 6,5 di sporgenza. È possibile dotare la vostra pergotenda anche di chiusure laterali, quindi in crystal trasparente per permettervi di avere una struttura completamente sigillata e quindi un ambiente protetto anche d'inverno. Realizzando delle vere e proprie stanze aggiuntive alla vostra casa utilizzabili in ogni stagione. Vediamo subito degli esempi con dei piccoli video dove si vede proprio la trasformazione di una casa e di come un ambiente esterno può essere valorizzato utilizzando una pergotenda. Questo spazio esterno, prima inutilizzato, viene sfruttato creando una palestra all'aperto. Anche questo cortile viene completamente trasformato creando una sala giochi all'aperto. Questo è il perfetto esempio di come una stanza all'aperto viene utilizzata anche in caso di pioggia. Ecco come un portico viene completamente trasformato realizzando un salotto all'aperto. Questi sono soltanto alcuni esempi di utilizzo, ma sono convinto che anche a casa tua sapresti come usarla. Ciao e alla prossima tenda!